Buongiorno e ben ritrovati a tutti, cari telespettatori di FanoTV, questa è la rassegna stampa del mattino alle 7.30. Noi come sempre siamo in diretta da lunedì al sabato per leggere i giornali, il Corriere Carlino e il Messaggero, i tre quotidiani che hanno gli inserti locali. Prima però il santo di oggi, oggi è la Madonna di Cesto Cova, il sole è sorto alle 6.24 e tramonterà alle 19.56. Vediamo il tempo, innanzitutto con la temperatura che è 18.8, insomma fa fresco in queste prime ore del mattino, però poi la temperatura salirà e lo farà sempre di più in questi giorni che i meteorologi hanno definito come giorni di nuovo, di piena estate, con temperature che si aggireranno intorno ai 35 gradi. Oggi avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con debole attività cumuliforme sui settori meridionali della regione. Avremo possibilità di brevi piovaschi sul settore meridionale durante le ore centrali della giornata. Le temperature in diminuzione, i venti sono di brezza tesa da settentrione, il mare sarà mosso. Per domani, giovedì 27 agosto, cielo sereno, poco nuvoloso, con temperature in aumento, i venti di brezza leggera o tesa da nord, mare poco mosso. Mentre per la giornata di venerdì 28 agosto, siamo ormai alla fine del mese, però nonostante questo, ripeto, ci saranno temperature ancora in ulteriore aumento. Con venti che continueranno comunque a soffiare di brezza con intensità massima durante le ore centrali, il mare sarà quasi calmo, poco mosso, mentre avremo appunto cielo sereno su tutta la regione. Giornate stabili dunque, soleggiate fino all'inizio della prossima settimana, grazie alla presenza di questa alta pressione. Ieri c'è stata la presenza a Pesaro del Premier Matteo Renzi, naturalmente tutti gli inserti dei tre quotidiani ne parlano, anche se la ribalta è nazionale, ma chiaramente la partecipazione per la prima volta all'incontro, al meeting di Rimini, di CL, ha fatto molta ombra a quello che è stato invece un blitz, così definito di poco tempo, di un'oretta circa, del Premier Appesaro, dove comunque ha fatto delle cose importanti, in particolare per la città guidata dal sindaco Matteo Ricci. Allora, andiamo a vedere, c'è stata ovviamente anche una contestazione, una contestazione accesa da parte della Lega, degli attivisti del No Trivelle e poi anche qualche insegnante, mentre all'Aquila, dove era atteso un po' più tardi, verso le 17, il Premier non è andato proprio perché lì la situazione era ancora più calda. Allora, vediamo di raccontarvi questa giornata con i giornali e cominciamo dal resto del Carlino. I contestatori divisi e in ordine sparso. Placato un docente che voleva fermare l'auto del Premier, i leghisti con le ruspine, fratelli d'Italia con il capitano ultimo e le mamme del Santa Marta. Il teatro Rossini blindato restano fuori in tanti, anche i sindaci dell'Ascolano, la polizia controlla, ma la protesta alla fine, insomma, è pacifica. L'ex sindaco resta fuori, la gazzarra danneggia i cittadini. C'è una lettera che pubblica il giornale questa mattina. Sempre su questo argomento, naturalmente anche il Corriere, la pagina delle Marche, Renzi, nel 2016, via Tasi e Imu. Per tutti da Pesaro parte la narrazione Italia del Premier per comunicare l'opera del governo in 100 teatri del Paese. dunque ha cominciato con Pesaro. Poi sotto Ceriscioli, il presidente della regione Marche. Ceriscioli, doppio bel risultato per le Marche. La soddisfazione per il protocollo Città della Musica e per Pesaro numero zero del tour del presidente del Consiglio. L'evento si apre sulle notte di Aureliano in Palmira. Un omaggio all'archeologo ammazzato dall'Isis. E anche il messaggero dà spazio, una pagina intera, a questo appuntamento pesarese di Renzi. Città della Musica sosterrò Pesaro, dice Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio firma il protocollo d'intesa che candida il capoluogo al riconoscimento dell'UNESCO. Renzi fa il pieno a Rossini ma viene contestato all'esterno. Un cittadino lancia allusivi petali di rosa ma viene subito bloccato. Ovviamente i petali di rosa che fanno riferimento ad un'altra situazione che ha suscitato polemiche e che ancora farà discutere a lungo. E Ricci elenca al Premier le urgenze. Stop ai tagli ai comuni, va allentato il patto di stabilità, unica società di servizi e si risolva lo scandalo del Fano Grosseto. Sotto invece senza tetto alla stazione di Pesaro per loro la casa, per loro casa Tabanelli. Adesso ricominciamo e andiamo invece a vedere questa pagina del resto del Carlino, pagina che sicuramente verrà consumata nei bar e sarà l'argomento del giorno. Già ce lo immaginiamo, però insomma sono quelle cose estive che però fanno sorridere alcuni ma probabilmente farà preoccupare altri. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della violazione di un sito internet, un sito internet che ha qualcosa come milioni di persone che hanno un unico obiettivo, quello di tradire moglie o viceversa, mariti. Un sito ad alta infedeltà. E gli hacker, cioè quelli che si intrufolano nei siti altrui, sono entrati in questo sito internet che ha sede credo in Canada o da quelle parti e hanno iniziato a prelevare i dati, che nello specifico sono dati anche molto sensibili, perché ci sono anche i gusti sessuali. Oltre che nomi, cognomi e anche un documento, perché serve anche quello. Ebbene, hanno cominciato a pubblicare un po' di queste cose. Vediamo allora, ma senza svelare troppo, perché poi giustamente chi ha scritto l'articolo, quindi nello specifico Tiziano Mancini, del resto del Carlino, ci ha lavorato su e quindi non possiamo svelare troppo. Vi diciamo soltanto che comune per comune c'è scritto il numero degli iscritti, ovviamente non chi ci mancherebbe altro, però il numero degli iscritti e quindi balza all'occhio, per esempio, che a Fano si sono iscritti a questo sito di incontri, di tradimenti, 506 persone, mentre a Pesaro 1115. Ma ci sono poi tutti, come dire, anche i vari comuni, quelli piccoli, eccetera. Il sito è stato attaccato, dicevo, e violato da un gruppo di hacker denominato The Impact Team, che ha pubblicato una prima serie di nomi minacciando di farlo ancora in futuro. e per l'esattezza a Pesaro, in tutta la provincia di Pesaro e Urbino, ci sono iscritti 2519 persone. Da Fano, invece, il resto del Carlino decolla l'accordo con la Slovacchia, definito con il Presidente della Repubblica Andrei Chisca, che tra l'altro è stato in vacanza a Marotta e a San Costanzo nei giorni scorsi, parla Santorelli, che gestisce l'aeroporto di Fano, dice costruiremo velivoli bimotore con la Shark. Poi, l'appello del pilota notaro, ora che investono da noi bisogna togliere, anzi, sì, togliere l'erba dalla pista e fare quella di 1200 metri già progettata. Naturalmente, pista in cemento. Poi, ancora, la vicenda, la vicenda dell'addetto, del portavoce del Sindaco, ma anche del settimo assessore. Sapete che quest'anno, con questa nuova giunta, gli assessori sono sei, a differenza dei dieci che aveva l'ex sindaco Stefano Guzzi. Però con sei si lavora male, perché ne servirebbe uno in più. Però, a quanto pare, c'è questa marcia indietro e quindi, di nuovo, il settimo assessore per il momento non si fa nulla. in nome del risparmio. Il Partito Socialista, infatti, è contrario alla nomina del settimo assessore. Il Partito Socialista è il partito di riferimento di Massimo Seri. Massimo Seri è un socialista. Dunque, Pagnetti e Vergari, la città si può governare benissimo così. Voglio organizzare meglio, dice il Sindaco, la mia segreteria. Deciderò in autonomia. La tragedia di Nicolas, il sedicenne morto in un incidente stradale l'altro giorno a Senigallia. Prevista l'autopsia, gli amici straziati, sei nei nostri cuori. Il sedicenne morto nell'incidente. Domani mattina, dunque, l'esame. Annullata la festa del Paese a San Filippo sul Cesano. Una comunità sgomenta. Non ti dimenticheremo. E ancora, dai quotidiani di tutt'altro genere, l'appuntamento di questa sera per tre giorni a Lucrezia di Cartoceto, Music Square, grandi emozioni con un ricco programma. Un programma che parte oggi a Lucrezia, in piazza Giovanni Paolo II. E' la settima edizione di un ormai celebre tre giorni dedicata alla musica. La musica con importanti gruppi che si esibiranno e faranno ascoltare anche canzoni di grandi artisti. Adesso torniamo sul Corriere Adriatico. Parliamo del delitto di Ismaele. Andiamo a Sant'Angelo Invado. Il consulente della difesa studia la scena del delitto. Ezio Denti, che tra l'altro si occupa anche del delitto di Iara Gambirasio. Ezio Denti sostiene con l'avvocato a sole la difesa di Igli Meta, che è reo confesso. E che dunque ha detto, sì, ho ucciso io Ismaele Lulli. Dimostreremo che non ci fu premeditazione. Poi, dalla pagina di Fano, il sindaco sullo staff, decido io, scatto di dignità di Massimo Seri, che giudica inopportuna la diffida contro la scelta di Davide Rossi. Diffida arrivata a mezzo stampa dal Partito Democratico e da sinistra, da SEL. Nessuna decisione presa, ma viene difeso chi con grande capacità non ha cercato nulla e non è stato rispettato. A Guzzi, l'amministrazione per l'ex sindaco, questa amministrazione di centro-sinistra, è già alla frutta. E poi, sotto, si parla della fiera di San Bartolomeo, che è ancora in corso e lo sarà per l'ultimo giorno, ancora oggi. Prodotti casalinghi, ecco le novità della fiera. Più visitatori il secondo giorno, segnalata la presenza di russi in vacanza in Romagna, oggi giornata di chiusura. Da Marotta, invece, vogliamo partecipare. Due binari morti trasferiti al Comune. L'associazione chiede gli atti per dire la sua e fare qualche progetto. Stiamo parlando del casello della ferrovia a Marotta. Poi, sulla pagina di Senigallia di questa mattina, anche qui a tutta pagina, la tragedia di Nicolas, tradito dall'asfalto bagnato, si poteva salvare se non gli fosse volato via il casco. Ascoltati diversi testimoni dell'incidente. Non è stata sospesa la patente alla guardia giurata, denunciata per omicidio colposo, come atto dovuto. Irrisori i danni riportati dalla Volkswagen, dalla Polo, sequestrata dalla postrada, su ordine del magistrato. Dunque, incredulità all'ITIS, l'istituto scolastico frequentato da Nicolas, dicono era un ragazzo d'oro. E sopra, agli amici, ci mancherà il tuo sorriso stampato in faccia. Il sedicenne era molto amato a San Filippo sul Cesano, anche per l'aiuto fornito durante le feste paesane. Ancora dal messaggero, sempre sulla morte di Nicolas, morto in moto, giallo sulla dinamica, il sostituto procuratore vuole esaminare maggiormente le cause di questo incidente avvenuto sulla strada del Cernin. Dalla prima ricostruzione sembra che il mezzo sia scivolato sull'asfalto bagnato. Quindi le ipotesi sono sorpasso azzardato, un malore del ragazzo oppure il guasto del suo motorino. Intanto è ancora incerta la data dei funerali di Nicolas per la possibile autopsia. Come dicevamo, gli amici sotto sciocca, annullata la festa, cenando sotto le stelle. Addio al maestro Mario Melani, ambasciatore pesarese del Belcanto. Diceva, Pesaro può diventare con Rossini ciò che è Salisburgo con Mozart. È un bell'augurio e anche un bell'auspicio, perché no? La notte verde dei parchi marchigiani, tra pipistrelli, poesie e passeggiate. E poi, ancora cronaca, a Vallefoglia, ladro smascherato da una foto sul cellulare. Sulla Domus Romana, sempre a Pesaro, Domus Romana multimediale per attirare turisti. È stato inaugurato il sito con i mosaici di Via dell'Abbondanza. E poi a Fano, invece, la pagina fanese del messaggero, scontro nella maggioranza. Il sindaco Bacchetta Tutti, fissato per oggi un vertice di maggioranza, che doveva tenersi l'altra sera, poi il sindaco ha avuto problemi e quindi non è riuscito ad essere presente. Una riunione di maggioranza per ricomporre la frattura sul caso Rossi. Sempre il sindaco dice, non voglio prestarmi ad un dibattito da corridoio e accusa il Partito Democratico e Sinistra Unita. Mentre l'ex primo cittadino Aguzzi dice al suo successore, la priorità del momento non è assumere il tuo segretario. E poi, ancora, il maltempo, maltempo che non frena lo shopping alla fiera di San Bartolomeo. Per l'ultimo giorno il meteo prevede il sole e ci si aspetta, dunque, il pienone. E' tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo stasera alle 20.30 con occhio alla notizia.